La categoria sicuramente ha bisogno di certezze, ma come tutti, certezze in una maniera così complessa e da come è stata impostata probabilmente non ne avremo fino all'ultimo minuto, però anche se non sono certezze, se avviciniamo sarebbe molto opportuno. Ci sono ancora parecchie questioni aperte e provane sia che dobbiamo anche attendere l'approvazione della legge di bilancio di quest'anno per capire esattamente come si andrà a finire, anche se più o meno abbiamo capito, però a prescindere da quelle che saranno le novità di questa legge di quest'anno, anche delle leggi precedenti e della legge, effettivamente ci sono parecchi punti che sono ancora, che ci sono parecchi dubbi come abbiamo espresso. E questo mette a rischio la categoria chiamata sul campo perché si rischia di sbagliare più facilmente? Questo sì, innanzitutto rischia di dare un cattivo servizio, al di là delle responsabilità che chiaramente poi ognuno, insomma responsabilità civili e via dicendo, però effettivamente rischia di dare un brutto servizio in alcuni casi. E questo non va bene, non va bene perché noi possiamo prenderci come categoria delle responsabilità quando effettivamente noi siamo poco bravi, però in questo caso avremo anche molte molte giustificazioni e ci dispiace questo. Ci dispiace soprattutto perché è una materia complessa, difficile, eccetera, però se andiamo a verificare abbastanza bene come è stato tutto l'Iter, ci voleva un attimino di più attenzione dall'amministrazione, dal potere politico e governativo per anticipare un pochino, bastava insomma consultare gli ingegneri, le professioni, insomma anticipare, prevenire, ecco diciamo la prevenzione è sempre una cosa molto importante.